Quella che può sembrare una bravata in realtà può portare anche delle conseguenze, a parte che non è roba loro, c'è anche da dire questo, non è roba tua, ma al di là di questo pensiamo a quello che potrebbe accadere, ma pensiamo anche che potrebbe accadere. E' arrabbiato il sindaco della Pietra dopo quanto accaduto nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, quando qualcuno ha pensato bene di scoperchiare una decina tra tombini e caditoie. Ieri mattina sono stato contattato tra l'altro direttamente da Matteo, che è dipendente del comune di Spresiano, che aveva già provveduto ad andare in cerca di tutti i tombini e le caditoie e al loro riposizionamento. Per fortuna, dice il primo cittadino, con un sospiro di sollievo nessuno si è fatto male. Quello è un parcheggio pubblico, è un'area parcheggio pubblico, scende il bambino dall'auto, cade nel pozzetto e poi dopo succedono le cose gravi. Importanti saranno le immagini delle telecamere della zona, ma anche le segnalazioni di alcuni residenti. Ho avuto delle segnalazioni proprio stamattina da alcuni cittadini che hanno anche riconosciuto delle auto, per cui bene, ringrazio anche i cittadini solerti. I responsabili, una volta individuati, rischiano solo una sanzione. Io stamattina avrei voluto denunciare la cosa, però effettivamente non si configura un reato. Abbiamo fatto una segnalazione alle forze dell'ordine e adesso comunque stiamo vagliando le telecamere. Di fatto adesso ci sarebbe una sanzione amministrativa del nostro regolamento di Polizia Urbana per spostamento di tombini, una roba del genere.